Il Consiglio regionale ha partecipato al Forum PA 2015, manifestazione annuale per la diffusione del Best Practice realizzato in centinaia di amministrazioni italiane, che si è tenuta al Palazzo dei Congressi di Roma a Euro. L'Assemblea piemontese ha portato la sua esperienza sull'utilizzo degli Open Data e delle mappe con Piemonte Viz. È piemontese anche l'istituto vincitore di A Scuola di Open Coesione, il Liceo Peano Pellico di Cuneo, che si è distinto per il lavoro di ricerca e analisi sul miglioramento energetico del nuovo ospedale di Alba Bra.